A Prato, nella nuova piazza delle carceri, c'è uno storico bar che, da generazioni, è il luogo ideale per colazioni, pranzi, aperitivi e wine bar. Caffè Bacchino International e anche esposizioni di opere di artisti locali ed emergenti, live DJ set e tanti cocktail da gustare piacevolmente in compagnia di amici o durante le tue riunioni di affari. Caffè Bacchino International ti aspetta a Prato, in via Cairoli 56.